Direttamente dalla Repubblica Ceca, Lessi, New York, di otto anni. Asciami vedere qualcosa. Mi piacere il vostro, mi piacere, si si. L'aventa. Atenta Sorte Mendo No, chiaramente L'esercizio, non in silenzio Come il giudice Brava Congeloso, sì, sì Bravissima Mendo Palette, cari No, no, diciamo che non ha influenzato Per me Eccolo, vediamo adesso Latina Mettiamoci a posto, bellissimo Buon applauso Un applauso Benji, vediamo se Benji Benji è bravo come Come Nessi Anche lui fa tricks Pochi? Pochi, poco, poco È tricks, è l'english Terra, seduto Zamba Zamba Occhio Grande, super Super, super Palette, cari 10 9 9 Non poteva che Non poteva che Non prendere lui Il premio Simpatia Ma non tu Non eri tu Chi premia adesso Il premio Simpatia Vuoi premiare tu? Ti chiami? Maxim Maxim premia il cane più simpatico Quello che si è prestato a fare tutti gli esercizi più simpatici Nessi Nessi Doi orchi Anche il fratellino voleva il premio si è offeso Che non ce l'ha avuto Che non casca molto lontano La signora dovrà ritornare su Terzo classificato Benji, New York Tu studiare per me è il tuo E ora sarà contento Chi è che premia? Tocca a te Mi chiami? Filippo Ok, premia il giudice Filippo Complimenti Bravissimo Benji Gravissimo Benji Gravissimo Benji